Ciao a tutti da Jota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Strobofagia Rave Horror. È una preview e come tutte le preview non ho mai giocato a questo gioco. E oggi proveremo la demo. Trovate in descrizione il link di Steam per scaricare la demo. Andiamo subito a giocare, a provare il gioco. Play, start, non ho capito. Ok, spero ci sia un tutorial. Tab, ah, non c'è niente. No, va bene. Non ho la più pallida idea di cosa sia questo gioco. Connecting nearby router. Ah, connetti. Ah, ci siamo connessi. Si sei connesso, va bene. Vabbè. E adesso? Ci sono delle casse. Cos'è sta roba? C'è qualcosa? Apri. Non si apre. Prendi una foto. Io sono willing. Ok. È la frase. Va bene. E quindi? Ah. E? Invia. Ok, abbiamo inviato la frase. Cosa cavolo sta succedendo? Candela. Così? Ma è tutto buio? Non c'è una luce? No. Non ci sono luci. Va bene. Sono queste candele le luci. Vabbè, continuiamo a camminare. Ci sarà qualche jump scare della madonna e mi farà saltare in aria? Speriamo di no. Vabbè. Senti la musica però, eh? Vabbè. Rave horror. Beh. Dai. Diciamo un po' di... Muoviamo un po' la testa al ritmo di musica. Così. Salve. Eh. La sto muovendo io la testa. Non la muove lui, eh. Vabbè. C'è gente strana però. Salve. Ma non c'è un dance? Oh, buttiamoci nella mischia che c'è frega. Questa è tutti uguali. Ui. Sono pure i laser. Haha. Drink. Ah, ma siamo anche noi come loro? Drink. Drink. E' finita? Buttiamola. Che c'è frega. Tanti è gratis. Guarda quello che... Che faccina brutta che c'ha. Tu, 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 tu. Oh. Eh? E' strano. Vabbè. Attenzione, però, sto notando che è il telefono. Guardate un attimo il telefono. Qui il segnale è più debole. Sei tu? Sei tu? Andiamo dal disc jockey. Ma non ho capito ancora che... Non è il disc jockey. Non è... Pensavo fosse il disc jockey. Però c'è roba. Cos'è sta roba? Ah, ma praticamente possiamo buttare tutto, prendere tutto, pick up. Throw. Ok. E' una vasca piena di roba. Permesso, scusate. Dai, buttiamoci qua nella mischia. Voglio andare a vedere... Non ci fanno passare. Però la musica non è male. E' proprio classica da Ray, Ray, Ray. Ma si può saltare, no? Ehi, disjockey, avrei... Una richiesta per la musica. No, eh? E' da sbocco. Ok, stop. Muovere la testa. Tu, mi stai ballando strano. Ma secondo me si può interagire con sta gente, no? Ah, lo spingo. Ah, quindi posso fare permesso... No. Solo lui potevo spingere. Perché? Solo quello lì. Solo quello viola. C'è qualcosa che mi sfugge. Tipo, vedi? Ti spingo. Permesso. Permesso. Spostanzi. Tu sei messo male, eh? Tu sei messo malissimo. Vabbè, seguiamo il segnale. Vediamo un po' dove arriviamo. Eccolo qua. Dice che mancano dei pezzi. WP Endless, ok. E fa il rito. Ok, ci dà il benvenuto. Ci dice di fare un rito. Dobbiamo trovare questi pezzi, quindi. Che sto succedendo? Sono tutti fermi col telefono. First time to ask your question. Oh, è iniziata la musica. C'è qualcosa che dobbiamo cercare. Ok, andiamo a cercare queste pietre. Vediamo un attimo cosa ci dicono. C'è spam, praticamente. Siamo collegati allo spam di tutto. Sì, c'è tanto spam. Ok. E questo? No. Questo è un po' tripacido. Di qua. Eh, eh, eh. Siamo qua. Sei tu? Levati. Sarà qua dentro, allora, la pietra. Pick up cosa, no? No, no, non sto capendo. Aiuto. Hey, hey, hey. Questa? Sì, sicuro che non sono le bottiglie da mettere dentro. Messo... Andiamo. No. Non sono le bottiglie. C'è qualcosa del telefono e non riusciamo a capire. E non c'è il tutorial, purtroppo. Quindi sarà un po' un casino e cercheremo. Bottiglie, bottiglie, bottiglie. Attenzione. Possiamo andare qua dietro? Buongiorno, buongiorno. Scusate, sto cercando dei sassi. Li avete visti? No, eh? Tipo questo. No. Magari dobbiamo uscire. Non lo so. Non riesco a capirlo. Usciamo. Lì c'è una luce. Andiamo verso la luce. Così siamo usciti dal... Ah. Q. Ah. Attenzione. Con Q posso fare questo. Allora. Q. Posso capire chi è la persona? Daedalus Nax. Ah. Aspetta. Forse ho capito. Allora. Ok. Lì ci dice le persone chi sono. Andiamo di qua. Andiamo un po'. C'è una luce. Non mi fare il jump scare perché... Prendine uno. L'ho preso. Eh, posso buttarlo pure, eh? Mi prendo un altro, che me frega. E mo? C'è, non mi fare saltare in aria, eh? Luce florescente. Era meglio il rave, secondo me. Sarà infinito sto posto? No, c'è un'altra luce lì. Ma si può correre? No. Andiamo verso le luci. Vediamo un po'. Ah, questa è una strada. No, così torno... Eh, così sto tornando a rave però. Stavolta c'è la luce però. No. Adesso non ci dà più il... C'è solo musica a manetta. Qua posso salire, sì. Ok, usciamo di nuovo. Perché con che strana ragione... Ah no, di qua possiamo uscire. E possiamo andare a prendere una di questa light. Che si sta consumando, credo. Ok, adesso ci dice Q2. Abbiamo Naxx. Naxx. Naxx perde il segnale quando... Ok. Da qua c'è il segnale. Quindi credo che dobbiamo seguire quel segnale lì. È misero ma c'è. Eh, sta aumentando. Sì, 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 sì. Perché non si può saltare. Dai, dai. Ma quanto è lungo? Quanto è lontano? Eh, l'abbiamo perso. Qua aumenta. Aumenta. Ci siamo. Ci siamo. Eh, trovato. Connetti il mio livello router. Ok, ci dobbiamo connetterci. Debbe essere la scatoletta. Che non ci fa salire però. Ah, c'era proprio la stradina. Andiamo. Sinistra o destra? Ma che è? Che forti? Prendi una foto. Ci dice di connetterci ma ancora non trovo. Qua o qua? Dove lo mettiamo? Sinistra o destra? Eh, questo è un bel dubbio. Pensiamolo qua. Ho sbagliato, ho sbagliato. Che c'è? Non l'ho capito. Non è che voleva la bottiglia. Troviamo di nuovo. Vediamo un attimo. Tant'è ormai abbiamo capito bene o male com'è. Ciao. Però le luci... No, adesso sono spente. Sono cambiate. È diventato viola adesso. Ah, 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 attenzione. Infatti è diventato viola adesso. Prendine uno. È diventato viola. Adesso abbiamo... Adesso abbiamo... Daedalus... Liber... Liber... Libermass. Andiamo forse di qua a Libermass. Vediamo. Sì! No, questo è Daedalus. Cercando di capire dove sia, abbiamo sempre livello bassissimo. Siamo quasi vicini. È andare dritto di qua. Ci dobbiamo connettere. Eccolo qua. Ci connettiamo. Siamo connessi. Raggiungi... Questo. Che cavolo sta succedendo qui? Questa è la parte del rito. Non toccarlo. La risposta è vino. Killed. Ok. Tanta roba. Dice non toccare, però. Stanno ballando. Ah, ok. Sta ballando. Eh, che devo fare? Ah, dice non toccarlo. Vedi? Allora, lui diceva... Ah, dobbiamo spostare le figure. Allora... Con la destra fa una sopra e una sotto. No, non è così. Sì, secondo me è così. Ed è perfetto. L'unica che mi preoccupa è questa. Che secondo me non è così. Oh. Aspetta. Rito. Ma mi dà uno schiaffo, lo so io. Credo che sono morto. Penso. Oh no. No, abbiamo trovato il primo pezzo. Buttevi sto coso che non mi serve. Il primo pezzo! Ce l'abbiamo. Ok. Eh... Come si torna a casa? No. Dedalone. Allora, Dedalone. No. Dedalus. Su, aglio. Vabbè, lo troviamo perché si vedranno le luci. E la musica, naturalmente. Avemus primus pezus. Ottimo. Però c'è un problema. Questo è tutti morti. Ma questo non me l'aspettavo. È crollato un qualcosa qua. È crollato un po' di qua. Però loro continuano a ballare. Gli ne frega niente. Non è qua. Non è qua. È questo. Secondo me la prima volta abbiamo sbagliato. Sinistro-destra la dovevamo leggere bene. E c'è il buce-nammene. Secondo me abbiamo sbagliato la prima volta. Vabbè. Il buce-nammene. Vuole che andiamo di qua. Eh, infatti ancora c'è Naxone, vedi? Nervaile. Ci siamo già? Come ci siamo già? È questo. Connettiamoci. Che la connessione ci dà informazioni utili. Allora, vediamo un attimo. Non c'è niente. Ma qui sono solo porte chiuse. È una parte del rito. Bonum et malum, sinister et dexter. The one who is not sinister is right. E appunto, quello dice, cavolo mia frega del latino in un... Ok. Ah. Onestamente non so cosa vuol dire il latino. Però lanciamola per terra così fa luce. Se c'è qualcosa, che dobbiamo fare? Ti lancio la bottiglia, trovo. No. Forse dobbiamo completare prima le prime due? Vediamo. Proviamo ad andare... All'altra. A Naxone. Se ci vorrebbe la luce adesso. No, no, no. Naxone. Questo qui. Bravo. Faccio un bagno che spaventatevo io. Mi ha fatto prendere uno spaventato e la madonna. Ok. Qui stanno impazziti tutti qua. Ok. Andiamo di qua. Allora. Usciamo. C'è gente... Morta, borraccia. Questo? Ma questo è forse da dove siamo partiti? Forse ci sono più uscite, forse. Allora, fammi vedere. Aspetta, eh. Questa è la viola. Qua è diventato tutto... Tutto diroccato. Ma ancora state ballate? C'è c'è c'è... La gente muore! Toh, ti lascio questo e mi porto questo. Eh, infatti, infatti, infatti. Di là è viola, di qua è giallo. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Eccola qua. Allora, lui ci dice di connetterci. Però non trovo la colonnina per connettermi. Ah, eccola qua. E se non ci connettiamo non ci dice le informazioni. Allora. Allora. Ok. Le scatole sono una parte di... Eh? Eh? Niente, è giallo. Ora, il discorso che prima ne abbiamo fatto destra, no? Destra, blu. Sinistra, giallo. Aspetti, c'è la bottiglia. Posiziona la bottiglia. No, 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 no. Blu. Destra, viola, sinistra. Secondo me è sinistra. Perché c'è il cartello buttato giù. Però non lo so. Oi, oi. Non facciamo scherzi, eh. Allora, ci riproviamo. Vediamo un attimo cosa succede. Eh... Cioè, stavolta ce lo viola. Stavolta lo metto a sinistra, guarda. Anzi, lo apro, pure... Ti piace? No. Non... Non lo capisco. No, vi giuro che io non riesco a capirlo, però, eh. Proprio posso salire... Attenzione, fermi tutti. Che cacchio è sta roba? Sono alla tenda. Che codice è? Mo' sono sopra l'albero. Mo' mi cado e mi spacco tutto quando. Forse è per aprire la porta? Perché mi sa che è l'unico. Sì, lo so. Sto vagando in giro. Però... Non è facile. Allora. Qua cosa abbiamo? Allora, andiamo alla porta. No, il viola no. Ecco, quello lì è il pazzo che ci insegue e ci ammazza. È lui. Guardalo. Eh, vedi? Ah, ci siamo già connessi. E qua c'è la porta. Ma questa la posso bere? Alcune le posso bere, altre no. Io non c'ho capito niente. Tipo bevi. Ma non posso bere all'infinito? Che ne so, forse mi devo ubriacare per non capire più niente. Eh, sì. Sto incominciando ad avere gli effetti. Ok. Si stanno colorando tutte e due lo stesso colore? Oh, mi devo ubriacare fino alla morte, ma non credo. Perché prendo che questo stato più di così non vada. Eh? Avevo visto qualcosa io, però. Io ho questo qua di destra e sinistra, non capisco. Secondo me questo vuole una bottiglia. Vuole una bottiglia a destra e una bottiglia a sinistra. Qual è il pazzo? Ok, mi sono perso. No, sono ritornato. Mi sono sentito preso in giro, praticamente. Va bene. E non capisco. Eh? Ma che è sta roba? Che cavolo è? Vengo in pace, sono saltato in aria Ma mi uccide Ah no, prende il sangue Ma che cavolo sta succedendo? Ma mi ha rubato il sangue? Ma mi ha infettato? Non l'ho ben capito Continuo a fare cos'è e non capisco Però si è andato di là Sono diventato una bestia Secondo me mi ha infettato Rimani nella luce Ma che cavolo Beh io seguo il percorso Vediamo un po' Ma questa è finita E' in modo che devo andare Oh 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 Mi sta facendo Spaventare sta cosa Io non mi giro Vabbè le frecce Indicano tutte di qua Ma quando ci passo Si spengono Non so cosa sia succedendo Fai il rito Ma no Ma non lo mette Ma sei scemo No non l'avevo visto Ma ok Praticamente non sono riuscito a completare il rito Quindi molto probabilmente è a tempo E se riesci a completare il rito Ci sarà un altro finale Naturalmente noi Non ce l'abbiamo fatta Lascio a voi Il completamento del rito Non Non voglio rigiocarlo Per farvi vedere Se riuscissi mai A completare il rito Per farvi vedere L'altro finale In modo da non spoilerare niente Perché questa è una preview Come ogni preview Naturalmente Io non rilascio nessun giudizio finale Oltretutto è anche una demo Spero che questo gameplay vi sia piaciuto Se volete supportare il canale Lasciate un like O un commento E se vi va Iscrivetevi E come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye Ciao